Musica Sabato 9 aprile, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telemolisi. Iniziamo parlando di sanità, più posti letto alla sanità pubblica, regionalizzazione della Fondazione Giovanni Paolo II, trasferimento del Cardarelli all'interno della struttura che ospita la Cattolica. Sono in sintesi i punti salienti della proposta di riordino della sanità molisana, frutto dell'accordo raggiunto dopo mesi di polemiche tra i parlamentari del PD, Ruta Leva, e il commissario ad acta, Frattura. I contenuti illustrati nella conferenza stampa congiunta, ma dal forum per la sanità pubblica, arriva il secco no. Intanto sull'argomento lunedì al comune di Termoli, alle 11, conferenza stampa del senatore Di Giacomo. Ma sentiamo il servizio di Anna Maria Di Matteo. Regionalizzazione della governance della Fondazione Giovanni Paolo II, integrazione tra la Cattolica e il Cardarelli, più posti letto al pubblico, meno al privato. E in sintesi la proposta, frutto dell'accordo tra i parlamentari Ruta e Leva, e il commissario ad acta alla sanità, Paolo Frattura, presentato ai giornalisti. Un accordo, giunto dopo mesi di contrasti e polemiche, che tuttavia sarà oggetto del confronto, che partirà nelle prossime ore con gli operatori del settore, i comitati, i sindacati, prima del 13 aprile, data fissata, per la riunione del tavolo tecnico. In un intervento fiume di quasi 50 minuti, Frattura ha illustrato i punti salienti della proposta di riordino della sanità molisana. Il primo passaggio sul quale ci siamo convinti è stato quello di puntare in maniera chiara e determinata alla regionalizzazione della governance della Fondazione. Noi sappiamo che la Fondazione è un soggetto privato, la cui governance è per la maggioranza nominata dall'Ateneo Cattolica e un membro su cinque nominato per statuto dalla Regione. L'ipotesi alla quale noi abbiamo lavorato e per la quale siamo fermamente convinti di andare avanti è quello di ribaltare i termini, cioè riarrivare a una governance di nomina del Presidente Pro Tempo della Giunta regionale per quattro membri riservando un membro all'Ateneo Cattolica. Capite bene che questa è una procedura che abbiamo costruito con l'Ateneo Cattolica e che difenderemo in maniera, più che difenderemo, porteremo avanti nel confronto con i due ministeri al tavolo tecnico chiarendo il perché della scelta e quanto questa scelta ci aiuta a meglio organizzare le funzioni dell'ospedale unico. Ospedale unico per il quale non abbiamo più inteso una separazione netta tra discipline immaginando così come avevo inizialmente comunicato l'esclusività per oncologia medica e per cardiologia ma come già da qualche mese stiamo parlando di integrazione anche per queste discipline regolando con una sicura maggiore semplicità trattandosi di un'interlocuzione unica in termini di governance da una parte e di gestione ASRE ma dall'altra sicuramente più semplice nella definizione dell'organizzazione delle funzioni. Ospedale unico per noi quindi significa integrazione, integrazione e null'altro di questi due soggetti che coabitano nell'unico contenitore ed esprimono al meglio le proprie competenze. Nel rispetto mi sfuggiva quest'altro passaggio anche dei livelli occupazionali della fondazione. Dunque la fondazione Giovanni Paolo II cambia volto con il trasferimento del Cardarelli nella struttura della Cattolica la realizzazione ex nuovo del pronto soccorso integrazione delle due strutture nel rispetto dei livelli occupazionali con la richiesta della deroga al blocco del turnover per l'assunzione di 65 medici da distribuire negli ospedali di Campobasso, Iserni e Termoli. E poi c'è la ripartizione dei posti letto 800 in tutto di cui 603 destinati al pubblico con una percentuale del 75,3% contro il 24,80% riservato al privato. Minimo 40 posti letto a Campobasso per le RSA delle case di riposo Pistigli e Colitto, progetti per l'assistenza distrettuale territoriale e queste in sintesi alla sanità che Frattura, Rute e Leva stanno tentando di disegnare per il futuro del Molise. L'idea di avere la confluenza di gran parte del Cardarelli in una struttura unica insieme alla fondazione, avendo però una regia unica pubblica, ci consente di evitare una situazione di difficoltà che si sarebbe creata, avendo una struttura privata in coabitazione con una struttura pubblica. Io non dico che era impossibile, era complicato. L'idea è di far andare tutto lì. Io considero questa proposta un punto di partenza, non un punto di arrivo, lo diceva anche Roberto. Sono quattro giorni in cui credo che il confronto debba essere fatto con gli operatori, con le forze sindacali, con i comitati, a cui va anche il nostro ringraziamento per la battaglia che è stata fatta. Quando c'è la partecipazione, io penso che quando ci sia una spinta vera anche dal basso, la politica ha il dovere poi di ascoltare, di farsi carico di quelle che sono le istanze e le necessità. Intanto, proprio mentre nella sede del PD si teneva la conferenza stampa, nell'incubatore sociale, nella parte opposta della città, il Forum per la Sanità Pubblica organizzava la manifestazione di proteste in programma presumibilmente per il prossimo mese di maggio. Stiamo preparando la manifestazione sul Campobasso, la manifestazione che sulla guida di quella di Sernia dovrà essere sicuramente dimostrare come la gente non condivida le scelte politiche fatte dall'attuale entorazio. Ci siamo riuniti con l'ordine del giorno, la marcia su Campobasso. Traduciamo in termini pratici questo che significa la governanza, che si fa un consiglio di amministrazione che è fatto da parte dal pubblico e parte dal privato e poi chi viene e gestisce il privato, come viene gestita questa cosa. Due edifici comunali tra via Marche e via San Giovanni de Gelsi a Campobasso lasciati nell'abbandono e nell'incuria da anni e diventati luogo di ritrovo di tossicodipendenti e sbandati. I residenti chiedono al comune di intervenire perché questi edifici, oltre a togliere decoro alla zona, potrebbero essere destinate ad attività di aggregazione giovanile. Sentiamo. Un parchetto di erbetta, cespugli e fiorillini abbellito da fontanella, panchine e giochini per bambini, dove i residenti di via Marche possono portare i figli e gli animali domestici. Un segno di attenzione del comune di Campobasso sembrerebbe visto che sta approntando il piano di riqualificazione delle aree verdi cittadine, ma poi si va a guardare nel dettaglio la recensione di legno messa lì qualche settimana fa e si fa una sconcertante scoperta. I chiodi sono stati conficcati in profondità nei tronchi degli alberi. Se questa è riqualificazione del verde pubblico, commentano i residenti della zona, questo sfregio alla natura è paradossale, ma in paradossi a via Marche, qualche metro più in là, via San Giovanni, ce ne sono una grande quantità. Due esempi su tutti che dovrebbero preoccupare il proprietario degli immobili, ossia il comune di Campobasso, sono il bruttissimo scatolone grigio chiamato da tutti il bunker e si capisce perché è l'ex sede dei vigili urbani degli uffici dell'ASREM. Il bunker, una colata di cemento senza alcuna fantasia, risale a 15 anni fa, nato per dare un tetto al negozio di fiori poco distante e l'edicola, ha visto solo uno sprazzo di fantasia, le teste decorative in alto realizzate da artisti locali. Poi il niente, niente finestre, niente porte, niente interni. In compenso abbonda a qualsiasi altra cosa, rifiuti, bottiglie vuote, cartacce scritte sui muri ed escrimenti di animali. In 15 anni la vita si sa va avanti, il fioraio si è ritrasferito a Napoli, l'edicolante se ne è andato altrove e il bunker è rimasto. I residenti hanno interrogato il comune in proposito, ma Palazzo San Giorgio pare abbia risposto negli anni sempre con la solita cantilena. Non sappiamo che farne di questo luogo e quindi resta lì, monumento al brutto della città. Spostandosi di qualche metro su via Marche c'è un altro edificio in abbandono e ancora in cantiere. Qui c'erano gli edifici della Polizia Municipale dell'ASREM, spostati temporaneamente in via Toscana, si disse allora, ossia sette anni fa, in attesa dei lavori di ristrutturazione. Era il 2009, si legge sull'avviso dei lavori, che dovevano durare 250 giorni, ma i residenti la storia la conoscono bene. Dopo l'inizio dei lavori, la ditta di Caserta è andata a battere cassa al comune di Campobasso, che ha risposto a picche e quindi tutto si è fermato, anche il tempo. I ponteggi sono ancora là, anzi non tutti, perché un mese fa i residenti hanno segnalato alla polizia che uomini scesi da un camion targato Caserta stavano rubando pezzi dal cantiere. I ladri sono stati acciuffati in flagranza. E se non è per i furti, le forze dell'ordine devono intervenire peraltro. Più volte i cittadini hanno segnalato drogati, spacciatori e sbandati all'interno dello stabile. Ma anche in questo caso il comune di Campobasso, interrogato in proposito, non ha risposto. E i ragazzi di via Marche, che contavano di avere il pian terreno dell'edificio come centro di aggregazione, restano senza un luogo per le loro attività. A partire dalle 15 di oggi sarà gradualmente riaperta al transito veicolare la strada statale 87 Sannitica, arteria che collega la Campania e il Molise, chiusa dopo gli eventi alluvionali del mese di ottobre a causa dell'aggravamento della frana in atto. A renderlo noto è stato il prefetto di Benevento, Paola Galeone. Lasciamo l'informazione e andiamo alla rassegna stampa. Con Gianfrancesco Iacaruso in regia iniziamo dal giornale del Molise.it. Sanità, frattura, ruta e leva, il Cardarelli trasloca alla Cattolica. La fondazione sarà regionalizzata. L'articolo a firma di Anna Maria Di Matteo. Avete sentito anche il nostro servizio. Scuole sicure, scende in campo un gruppo di mamme della scuola di via Damato. Poi a Campobasso, i residenti di via Marche, il comune intervenga sugli edifici abbandonati. A Venafro, il comitato del Santissimo Rosario e il sindaco in procura per sbloccare lo smantellamento dell'ospedale. Intanto lotta la corruzione e le precisazioni dell'ASREM. Minaccia di darsi fuoco, paura a Campobasso per il gesto disperato di un disoccupato. Accettata la rinuncia di Petrol Celtic a trivellare il mare delle Tremiti, e intanto il referendum accende la polemica. Assistenza agli anziani, pronta una legge che riconosce il lavoro dei familiari. Continuiamo con la stampa regionale. Primo piano Molise. Sanità turna il sereno tra frattura ruta e leva. Dopo messi di contrapposizioni sull'integrazione Cardarelli-Cattolica, arriva la sintesi. Il nuovo piano operativo punta alla regionalizzazione della governance della fondazione. Confermato l'ospedale unico nella riprogrammazione che corregge il rapporto tra pubblico, 75% e privato, 25%. Neuromed perde 11 posti letto. Vediamo le elezioni a diserni. A Iorio il vero centrodestra sta con da Pollonio. Intanto Capracotta al voto Paglione scende in campo contro Monaco. Vediamo in alto la cronaca profugo. Sequestra i titolari del centro scatta all'espulsione. Arrocca ravindola. Intanto a Campobasso minaccia di darsi fuoco. Paura nel cuore della città. A Termoli, prostituzione sulla costa. In manette tre bulgari e si cerca la mente della gang. Vediamo ora lo sport. Serie di lupi. Tascini recupera per l'assalto al podio. Fano e Matelica diranno la verità sul rush finale. Corsa salvezza. I cerni alle assenze condizionano le scelte di Gioffre. L'agnonese va avanti con il 4-2-3-1. Eccellenza al del prete. L'unico anticipo. Il Venafro riceve la visita del Campobasso 19-19. Andiamo a vedere il quotidiano del Molise. Sanità regia pubblica in Cattolica. Confermato all'ospedale unico a Tappino. Nuovo pronto soccorso alla fondazione e ampliamento della struttura. Sblocco del turnover. Chiesti 65 medici in più. Presentata ieri la nuova proposta da frattura ruta e leva. Riequilibrio dei posti letto con il 24,7% ai privati. In infrastrutture in arrivo dal governo. Nuovi finanziamenti per il Sud. Poi Unimol, Molise e Star Cup. Competizione tra le imprese migliori. Disperato e senza lavoro tenta di darsi fuoco a Campobasso. E sempre nel capologo regionale. Accampati alla Menopeggio terminal bus come un ghetto. E simulano incidenti stradali per finanziare le casse del clan. A Disernia, follia nel centro accoglienza. Un migrante sequestra gli operatori. Vediamo lo sport. Serie D. Campobasso serve la spinta del tifo per battere il Chifano. E i Sernia, Girardi e Mingione saltano la fermana. All'apertura della Gazzetta, una sanità a misura della nostra regione. Ruta leve e frattura presenta nel nuovo piano sanitario regionale. 75% dei posti letto al pubblico, 25% a quello privato. L'Oscar del giorno, la Gazzetta del Molise, lo consegna Vittorino Facciolla e il tapiro del giorno a Francesco Totaro. Diamo ora futuro Molise. Un capobasso, un 38enne, minaccia di darsi fuoco tra i passanti gettandosi addosso del liquido infiammabile. Poi sanità e unione di intenti tra ruta leve e frattura. Posti letto 75,3% al pubblico e 24% al privato. Cardarelli, Fondazione Veneziale, verso ruoli ben definiti. Lasciamo l'informazione regionale, andiamo a quella nazionale. Il Corriere della Sera. L'Italia alza il tiro contro l'Egitto. Vertice fallito su Regeni, richiamato l'ambasciatore e la madre di Giulio. Non ci fermiamo. Rifiutate ai nostri PM le informazioni sulle celle telefoniche. Ora è a rischio l'incontro con Al-Sisi. Tregua con l'Unione Europea su debito e deficit, ma cresciamo meno giù le tasse alle imprese. Medie sette vivendi per la Pay TV europea. Scambio azionario e premium ai francesi. Pier Silvio Berlusconi, alleanza strategica. Andiamo all'apertura della Repubblica. Repubblica, Regeni fallisce il vertice, è rottura Italia-Egitto. La verità ad ogni costo. Il Premier, questione dignità, richiamato l'ambasciatore. Tal Cairo, pochi documenti. La famiglia, siamo amareggiati. Francesco apre ai divorziati. Il sesso è un dono di Dio. Il Papa, rispetto per i gay, ma no alle nozze. Presso a Brini, il super latitante, forse lui l'uomo con il cappello. Dopo gli attentati di Bruxelles. Andiamo a vedere l'apertura della stampa. Anche qui, apertura surre, Geni e crisi tra Italia e Egitto. Fallito il vertice tra inquirenti. La famiglia, siamo amareggiati. I gentiloni richiama l'ambasciatore. Intanto i magistrati del Cairo si rifiutano di consegnare i dati del traffico telefonico. E Renzi risponde, non ci fermeremo mai. La ragnatela di Gemelli, un clan tra affari e nomi nell'inchiesta di potenza, i favori e le pressioni sulla flotta e porto di Augusta. Dopo la stampa andiamo a vedere l'apertura del fatto quotidiano. Così lo staff della Finocchiaro aprì la commissione a mister Guidi. i gemelli in Senato, grazie a Paolo Quinto, attacché dell'esponente PD. Nuovo referendum da oggi si firma contro i tali come peregeni. 65 giorni dopo Italia sbatte la porta in faccia al Cairo. Il tempo barili di intercettazioni. Pure il Quirinale da potenza ormai esce di tutto. Anche l'aereo di Stato per Renzi in vacanza. Parla il fidanzato della Guidi, adesso basta. Mi hanno dipinto per ciò che non sono il verbale del Del Rio, la verità del ministro sul viaggio a Cutro e clan calabresi in Emilia. Il commissario vuole arrestare 5 milioni di topi. Le regole di tronca per la guerra ai ratti, cantine pulite e cemento sui buchi nel muro. Andiamo in alto. Il Papa dà la comunione ai divorziati. Il Pontefice ribadisce la necessità di accogliere senza discriminazioni i gay. Dopo il tempo, vediamo avvenire. La famiglia è una felicità possibile. Nell'esortazione post-sinodale il Papa richiama la dottrina e aggiorna la pastorale. Nessuno escluso si valuti e decida caso per caso. Reggeni, rottura e sanzioni. I PM egiziani a Roma non collaborano. Gentiloni richiama l'ambasciatore. Renzi, verità. Il Cairo prende tempo. Andiamo a vedere l'apertura del mattino. Caso Reggeni e crisi con l'Egitto fallisce il vertice. Roma richiama l'ambasciatore. Decisivo il rifiuto di consegnare i tabulati. Il messaggero Reggeni strappo con l'Egitto. Fallisce il vertice con gli investigatori egiziani. Delusione italiana. Nessun atto soddisfacente. Gentiloni richiama l'ambasciatore dal Dal Cairo. Renzi sottolinea ci fermeremo soltanto davanti alla verità. Il governo taglia la crescita all'1,2%. Sale il deficit, ma niente manovra. Preso lo stragista Abrini, il super latitante di Parigi. E' l'uomo col cappello dell'attentato di Bruxelles. Dal messaggero andiamo a vedere Libero. Meno PIL per tutti i conti non tornano. Il documento di economia e finanza rivede al ribasso le previsioni di crescita. E azzera il fondo che doveva ridurre l'IRPEF. Le privatizzazioni vanno in soffitta. Il governo paga solo il 46% delle fatture. Il debito non cala. In Europa sarà dura. Il Papa assolve i divorziati e delude i gay. L'esortazione apostolica è una svolta della dottrina cattolica. Dopo Libero andiamo alla Gazzetta dello Sport. Quindi concludiamo con le notizie sportive. La giochiamo noi. Milan-Juventus sfida tra due miti. Sheva sarà battaglia. Bacca mi piace. Che bravo. Allegri. Ale a San Siro la Juve vincerà 2-1. La rimonta è una vera impresa. Inter tempo di esami. Leder nero-azzurro è a secco. Ha sette partite per la riconferma. Con la Gazzetta dello Sport concludiamo la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. L'informazione di Telemolisse torna alle 14. Buona giornata.